un piccolo video dedicato a tutti i clienti dell'online che magari non sono mai venuti in bottega e non hanno visto il nostro laboratorio questa è la parte del front office dell'accoglienza in mezzo ai due mobili inizio 800 inizio novecento di arte inglese c'è una poltrona da lustratura scarpe il cliente passa si ferma beve una cosa assieme al nostro scarpe nel frattempo le calzature vengono lucidate nel mobile abbiamo tutte le scarpe già pronte per la consegna ognuna con il suo foglio bianco di lavoro con il nome del cliente cellulare e data di consegna questa è l'apparecchiatura che utilizziamo per sanificare le scarpe tramite la tecnologia dell'ozono vengono eliminati come si può leggere sulla vetrofania acari virus batteri cattivi odori ci approcchiamo nella parte laboratorio dotato di tutti i moderni macchinari pressa a vaschetta banco di incollaggio prezzo tradizionale banco di finissaggio erogatore di schiuma per il lavaggio macchina da cucire pacchi pronti per la partenza e il piano di lavoro questo è il nostro piccolo laboratorio dal quale eroghiamo tutti i servizi di risolatura tintura lavaggio igienizzazione e anche una piccola produzione di calzature su nuove che sono quelle che vedete all'interno appunto dei mobili bianchi chi volesse finisce a trovare è sempre il reddito ospite